Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video della YouTube Pagan Challenge numero 15 Allora, questa domanda è una domanda che in realtà io ho anche parzialmente affrontato nel video della magia e ci chiede, più nello specifico, che magia pratichi regolarmente Allora, premettendo, visto che ormai l'ho detto almeno 30 volte, che io non sono quel tipo di persona che sta sempre a praticare magia non sono il tipo di persona che sta sempre tutti i giorni a fare quello Il mio tipo di magia è un tipo di magia molto molto tranquillo Allora, vi faccio l'esempio di stamattina, tra l'altro che è capitato proprio a fagiolo Stavo pulendo casa e già nella pulizia di casa, come appunto vi ho detto nel video delle pulizie di primavera Mi focalizzo sul fatto di farla, non soltanto pulirla nel vero senso della parola ma anche fare una sorta di purificazione Quindi apro tutte le finestre, pulisco tutto Canto e ballo, sono positiva mentre lo faccio in modo che attiro positività Sistemo tutta la questione energetica della camera Perché mi rendo conto che ultimamente sono un pochino pochino negativa E non pensavo di poter esserlo Nel senso che io sono sempre una persona che cerca di Per quanto si possa battere, sono sempre Dai allora facciamo, dai allora diciamo Sono sempre molto energica, sempre molto come sono, appunto come vi vedete nei video E quindi ho anche se cercato di fare una sorta di purificazione della casa da me Perché ho delle influenze un po' non troppo positive ultimamente Dopodiché ho messo tutto a posto, ho sistemato tutto E sono arrivata al momento dell'altare Che è quello là che vedete dietro di me E ho detto, ma quasi quasi Siccome è un attimo di pausa Mi metto a fare una bella purificazione Quindi ho preso il mio palo santo Ho preso la mia salvia L'ho accesa Mi sono un attimo Proprio già soltanto sentire l'odore Mi ha un attimo dato questo senso di Ah, che bello Posso respirare di nuovo Aria pulita Ho acceso le candele Insomma, questo è quello che generalmente io più spesso faccio Mi dedico alla purificazione Mi dedico al riequilibrio di energie Ma la magia forse che io pratico più regolarmente È una magia diversa E non so come esprimerla Perché non so neanche se effettivamente sia magia Ma per me lo è Se andate a considerare tutto quanto il video che io ho fatto prima Io purtroppo mi sono resa conto Di amare le persone Io amo la gente Tanto Non riesco A non immedesimarmi negli altri Questa cosa è pessima 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 Perché questa cosa mi porta sempre a stare male Sempre Perché io sto sempre male per le persone Perché io mi immedesimo troppo negli altri Mi faccio carico dei problemi che non sono miei Se una persona non sta bene Inizio a cercare di stargli quanto più vicino possibile Cercare di aiutarla Molte volte anche a danno mio In un certo senso La magia che io faccio è donare amore E impegnarmi affinché queste persone possano avere aiuto O cerco di esserci per tutti quanti Però questa cosa purtroppo non è molto positiva Per me come persona Perché non soltanto mi carico di energie Che a volte non sono neanche troppo positive nei miei confronti Ma posso essere fraintesa Posso essere, non lo so, le persone mi prendono in antipatia Sai il cavolo perché E quello che io mi sono resa conto È che anche per alcune cose che mi sono successe ultimamente Che mi hanno fatto male, mi hanno fatto malissimo Io mi sono detta Che senso ha mandargli negatività? Mandagli amore Perché se tu gli mandi amore Per quanto sia una cosa difficile da fare Se tu gli mandi amore Tu lasci la persona che è di fronte a te Sostanzialmente bloccata Perché dici Cazzo io ti ho Ti ho fatto del male E tu invece di farmi del male Mi mandi amore Lo lasci un attimo così E quindi magari questa cosa può rompere la catena No? Quindi quello che io ho sempre detto È che alla fine La magia più grande che io faccio È cercare di donare amore E cercare di amare le persone Come vorrei che ricevere Ma non lo riceverò mai Ma io non lo faccio per un tornaconto personale Ho questo bisogno di mandare amore alle persone Tornando alla magia pratica A parte purificazione eccetera eccetera Non è magia Perché alla fine sono Vabbè sì oddio Ci sono questi momenti divinatori In cui io mi dedico Non è che lo faccio spesso Però ci sono momenti in cui Non lo so Mi interessa sapere qualcosa di preciso E quindi faccio un sacco un sacco un sacco di consulte divinatorie Quindi mi metto io tanto carina Con il mio incenso La mia candelina Tarocchi Pendolo E chi più ne ha più ne metta Ecco Però sì sostanzialmente La magia che pratico più regolarmente Sono purificazione Protezione Ultimamente sto cercando di adottare Che non so se sia proprio un tipo di magia Però alla fine siamo sempre lì Dipende sempre da come la si intende Ultimamente siccome qua a Londra c'è una varietà di cibi Che veramente in Italia non è minimamente paragonabile Io sto scoprendo cibi che non sapere neanche l'esistenza Sto scoprendo ricette che non immaginavo neanche Sapori che non avrei neanche potuto sperare in Italia E sto cercando di fare una sorta di ricettario Con tutte quante le ricette di cibi Di ricette di piccoli consigli Per il mangiare sano Il mangiare indipendentemente dalla questione sano Ma proprio mangiare cibi che ci fanno bene alla salute Tipo per esempio l'altra sera il mio ragazzo mi ha fatto trovare Questa cosa infatti mi ha fatto contentissima Mi ha fatto trovare il ginger caramellato Che ok non è tanto healthy Non è tanto salutare perché è caramellato Però il ginger è tipo una delle cose migliori che si possa mangiare O anche l'avocado Per esempio l'avocado è uno disinfettante Fa bene perché è un tipo di Sono tipi di grassi che fanno bene alla salute Poi la quinoa pure ho scoperto Che veramente sembra che ho fatto la scoperta dell'acqua calda Ma sono contentissima dopo che l'ho scoperta Insomma tutte queste piccoli Mi viene il termine in inglese ma non mi viene in italiano Tips Piccoli consigli Che possono poi dopo far parte Anche perché qua in Inghilterra esiste un tipo di magia Che si chiama la kitchen witchcraft Cioè la stregoneria da cucina Quindi in un certo senso Sì sto riscoprendo me Sto riscoprendo il mio corpo Sto riscoprendo l'interesse per me stessa Ecco che prima non avevo Quindi che altri tipi di magia Oddio In realtà prima quando stavo con le lune Facevo molto molto più magia Ci rendivamo Facevamo nostri Inciarmi da streghe Ultimamente purtroppo ragazzi Io non ho neanche il tempo di respirare Non so neanche come sto riuscendo a portare avanti Il canale youtube Cioè veramente L'unica cosa che io porto avanti L'unico hobby E l'unico interesse alternativo al lavoro Che io ho Perché purtroppo Neanche il tempo per stare con il mio ragazzo C'ho ormai Quindi pensate un pochino E quindi sì Questo alla fine è il tipo di magia che faccio Ovviamente A parte protezione ogni tanto Perché sono gli unici tipi di incantissimo Che faccio in realtà Protezione Penso che per Mabon Farò qualcosa riguardo L'equilibrio Ristabilire l'equilibrio E queste cose qua E quindi niente Alla fine sono una streghetta tranquilla Mi piace molto vivere L'aspetto più spirituale Della cosa Che è quello Magico Materiale E quindi io niente Vi ringrazio Vi lascio un bacione Grazie per guardare i miei video Per ascoltare Sette minuti di video In cui parlo di cose Che ho già detto Io vi ringrazio Se fosse per me Vi abbraccierei tutti Anche perché siamo arrivati a dei numeri assurdi Siamo 1.700 Tipo adesso Cioè Per me è incredibile Sicuramente Per il canone di YouTube È normale E sono anche pochi Però per me è tantissimo Quindi vi ringrazio tantissimo Spero di riuscire a portare sempre Consigli E soprattutto cose interessanti Perché mi rendo conto Che dopo un po' Dopo 8 minuti E passa Rompo un po' le scatole Però vi ringrazio Vi lascio un bacione Mua Mua Per me è un bacione Per me è un bacione